Namaste, ciao e benvenuto in questo video in cui andiamo a fare non tanto una sequenza di asana ma degli esercizi mirati, delle posizioni per aiutare la cervicale e una cosa molto importante in questi esercizi è sicuramente il respiro perché il respiro ci può aiutare a liberare a rilassare questa zona quindi mi raccomando cerca di mantenere sempre un respiro lungo profondo e rilassato e se stiamo seduti come fare come saremo tra poco ti consiglio o un blocco o un cuscino da tenere sotto i glutei in modo che puoi mantenere la posizione in modo più facile una colonna eretta in modo più facile iniziamo però sdraiati quindi ci sdraiamo sul materassino ti puoi aiutare a scendere tenendoti dietro le gambe poggia la testa e teniamo le ginocchia piegate qui apri leggermente i piedi e puoi unire le ginocchia tra loro ok ora che cosa vogliamo fare vogliamo trovare una schiena neutra quindi manteniamo la normale curvatura per il momento però cerca di allungare quindi prendi la testa e cerca di allungare proprio il collo quindi il mento è leggermente abbassato e è come se ti stessero praticamente praticamente tirando i capelli da dietro ok ora inspiriamo e cerchiamo di far durare ogni inspirazione 4 secondi e lo stesso vale per l'ispirazione inspira puoi chiudere gli occhi e espira inspira quattro secondi quello che dovresti sentire proprio la sensazione del collo che si allunga se vuoi ancora lo sposti con le mani quando inspiri si allunga crei spazio quando espiri si rilassa quattro secondi ispirazione quattro secondi e ispirazione rilassa le spalle rilassa le braccia continui a avere la sensazione che col respiro crei spazio tra le vertebre cervicali e ti prepari lentamente a girare su un lato ora non conosco il ovviamente i tuoi livelli di problemi alla cervicale nel caso tu li abbia ma aiutati a salire ci sono delle volte che io ho talmente male al collo che non riesco neanche a salire come ho fatto in questo momento quindi fai quello che puoi per aiutarti per sostenere il tuo collo la tua cervicale e vieni seduto a gambe incrociate seduta gambe incrociate sul tuo blocco o sul tuo cuscino se questa posizione è difficile da mantenere puoi venire sui talloni quindi ti siedi sulle ginocchia e ti siedi sui talloni cerchiamo di mantenere di ritrovare quello stesso allungamento quella stessa colonna quella stessa posizione anche qui quindi come se ti tirassero i capelli verso l'alto abbassi leggermente il mento rilassa le spalle mantieni le curve naturali della colonna quando inspiri immagini che qualcuno ti tiri i capelli verso l'alto per creare spazio tra le vertebre quando espiri rilassi sempre quattro secondi ispirazione quattro secondi espirazione mi raccomando rilassa le spalle rilassa le braccia lungo e profondo respiro ok andiamo lentamente a muovere il collo quando inspira quando espiri abbassa il mento fin dove riesci e arrivi crei questa curva inspira torna espira abbassa inspira torna espira abbassa lentamente quando inspira torna espira abbassa quando inspiri torni vai un pochino più indietro quando espiri abbassa quando inspiri indietro 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 mento su se vuoi sentire il supporto se vuoi sentire il supporto delle mani ti aiuti con le mani espira abbassa inspira inspira indietro espira e spira e spira e spira e spira e spira torna guarda avanti e spira e spira e spira e spira Quattro secondi e ispirazione. Il movimento è lento. Ovviamente se quattro secondi è troppo, tre secondi. E torna. Ora abbassa la testa verso destra, quindi orecchia destra, spalla destra. Con la mano affari la testa. Allunghi lateralmente. Allunga, 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 respira. Allunga anche la colonna verso l'alto. Lasci cadere la spalla sinistra verso il basso. Torna. Torna al centro, rimani un momento, prendi un respiro profondo. Abbassa la testa, orecchia sinistra, spalla sinistra. Afferri la testa, abbassa, 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 allunga. Lasci cadere la spalla destra mentre il petto si espande, la colonna si allunga. Respira. Quattro secondi ispirazione, quattro espirazione, o tre secondi se quattro è troppo. E torna. Ora, cammina avanti con le mani e vieni quadrupedia, poi ti siedi sui talloni, unisci le ginocchia per supportare il petto e cammina avanti con le mani. Puoi poggiare la fronte a terra, puoi poggiare la fronte sul tuo cuscino o sul blocco se vuoi supporto e cammini avanti con le mani. Respira. Respira. E torna lentamente. Ora, andiamo in piedi per una profonda flessione in avanti. Apri i piedi per avere più stabilità. Se le ginocchia sono piegate va bene. Lasci cadere la testa, la rilassi. Puoi mettere le mani dietro la testa. E rilassa qui. Proprio la parte alta del corpo si flette profondamente in avanti e non c'è tensione qui. Lasci cadere, rilassare la testa completamente. E rilassi il collo completamente. E torna. Appoggia le mani a terra. Torna sulle ginocchia. Torna bambino in allungamento. Appoggia la fronte. Cammina avanti con le mani. Respira. Respira. E srotoli una vertebra dopo l'altra. Ti prepari lentamente a tornare. Qui siamo seduti sui talloni. O puoi tornare seduto a gambe incrociate. Rilassa le spalle. Allunga la colonna. Allunga il collo. Ancora un paio di respiri qui. Chiudi gli occhi. Quattro secondi. Inspirazione. Quattro secondi. Espirazione. Portere. Ostoi. Lola. Viceucian. Lola. ti prepari lentamente ad aprire gli occhi porti i palmi uniti davanti al cuore ti ringrazio per aver praticato insieme a me e ci vediamo nel prossimo video